Costringeva l'ex compagna a vivere in condizioni di soggezione e vestazione sotto il suo continuo controllo, limitandone i contatti con amici al di fuori di casa e causandole uno stato di profonda preoccupazione per l'incolumità propria e dei figli. Sono diversi gli episodi emersi dalle indagini effettuate dalla Polizia di Stato di Catania, in cui l'uomo, un 41enne, si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti aggravati. Tra questi l'ultimo risalente allo scorso 2 luglio, data in cui il 41enne si sarebbe recato a casa della donna con una bottiglia da due litri contenente benzina con l'intenzione di volerle dare fuoco. Decisivo in questa circostanza l'intervento dei vicini che sono riusciti a togliere la bottiglia dalle mani dell'uomo costringendola alla fuga. Già sette anni fa il 41enne aveva minacciato con un coltello la donna, mentre nel 2022, a seguito dell'ennesima lite, le aveva provocato delle lesioni al volto con una prognosi di sei giorni. Più di recente, in seguito a una riappacificazione dopo una temporanea interruzione della convivenza, c'era stato un peggioramento di tali condotte. Alla luce di quanto emerso, su disposizione della procura distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti dell'uomo che, rintracciato presso l'abitazione della sorella, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.